Musica Amici miei bentornati ancora una volta qui online per un nuovo video e oggi come facilmente è intuibile dal titolo e dalla copertina Siamo finalmente anche noi online per parlare di lui, iPhone 13 Pro Ovviamente come sempre non siamo qui per una recensione ma vi voglio portare proprio la mia esperienza con questo dispositivo E voglio farvi capire se veramente ha senso passare a lui, se avete un iPhone 12, 12 Pro Se ha senso acquistarlo, quali sono le migliorie, quali sono i difetti, che ci sono Quindi oggi parliamo un po' di tutto della mia esperienza, del mio rapporto con questo iPhone Ma prima di andare avanti io devo parlarvi del mio rapporto con iPhone in generale Perché dovete sapere che non è un rapporto diciamo di amore totale Anzi diciamo che questo rapporto è iniziato proprio con un odio e questo odio si va a concentrare su iPhone 4S Io questo smartphone l'ho avuto per due settimane circa Poi dopo non l'ho proprio sopportato più e l'ho buttato, l'ho lasciato, è rimasto in casa, l'ho utilizzato per esempio mia madre Però è uno smartphone che non mi è mai piaciuto, non mi ha mai convinto al 100% Quindi preferivo altro e quindi trovavo diciamo la perfezione in Android e negli altri smartphone Che ovviamente tuttora continuo a diciamo utilizzare Per esempio ho un OnePlus Nord C e 5G Poi dopo un po' di tempo per portare un po' di contenuti per quanto riguarda le app Appunto che per cambiare un po' di app per iOS ho acquistato un iPhone 7 iPhone 7 che mi piaceva per il design, scocca tutto in alluminio, era proprio bello ragazzi Ed era bella proprio la colorazione nera, veramente total black ma vera E' veramente molto molto piacevole Acquistai quello smartphone anche perché ai tempi era un investimento più che ragionevole Perché si parlava di 200€ e potevo provare le app e portarvi nuovi contenuti E quindi lì è iniziato a nascere l'amore Poi è arrivato il mio iPad Pro e lì diciamo che il tutto è iniziato a cambiare E diciamo che dentro di me iniziava a crescere la voglia di un iPhone Iniziavo a capire che effettivamente l'ecosistema Apple potrebbe o comunque Ecco poteva essere giusto per quello che effettivamente volevo fare io E quindi dopo un po' di tempo ho acquistato il mio primo vero e proprio iPhone iPhone 11 Pro verde Bellissimo ragazzi, uno degli smartphone a cui sono più affezionato Per il design, per le performance, per le fotocamere, per tutta la storia che poi ci è stata tra di noi E' uno smartphone a cui tengo veramente tantissimo E all'uscita dei 12 io ho evitato l'acquisto Non li ho acquistati ma grazie a Trend Device ho la possibilità Come vedete anche da questa parte Di provare, testare e ho utilizzato per circa due mesi Questo iPhone 12 Pro Max Smartphone fantastico ma Che mi ha fatto capire che effettivamente Testandolo e diciamo mi reputo molto fortunato Perché ho testato prima lui, prima di passare al 13 Quindi riesco a capire proprio le sfumature, le piccole sfumature E come vi stavo dicendo Riesco a capire che effettivamente questo qui Non è una rivoluzione Per niente Ma è la ciliegina sulla torta E adesso vi spiego perché Partiamo dal design Non cambia praticamente nulla ragazzi Se vogliamo parlare in linea generale Perché abbiamo nella parte frontale un Ceramic Shield classico Quindi un vetro abbastanza resistente Nella parte invece posteriore abbiamo ovviamente vetro In questa colorazione opaca, in questo caso bianca Bellissima, la mia colorazione preferita in assoluto quest'anno Che ovviamente non cambia rispetto agli altri anni Come anche il frame sempre in acciaio inossidabile Un po' delicato ma comunque super piacevole Ma in questo caso quello che tengo a diciamo sottolineare È il modulo fotografico nella parte posteriore Diventa decisamente più grande Ma a parer mio Poi voglio sapere la vostra qui sotto Rende il tutto all'occhio molto più equilibrato Cioè io guardando un 12 Pro Max Guardando un 13 Pro Riesco a notare un certo equilibrio Per il 13 e non di qua Diciamo che si va un attimino a perdere E anche se guardate un 13 Pro Max da vicino Questa cosa la noterete Trovo un equilibrio per quanto riguarda il design Decisamente interessante Modesto parere O comunque parere personale Scusate, stavo sbagliando Detto questo andiamo avanti E nella parte frontale Altra cosa che cambia è il notch Più piccolo Si nota? Beh, è più piccolo assolutamente Sì, vero, ma non è questa rivoluzione pazzesca Ma parlando poi delle dimensioni Vi dico che non cambia Ma diciamo diventa un attimino più spesso 7,65 mm Che non sono nulla di che Ma quello che noto particolarmente Per quanto riguarda queste nuove dimensioni È il peso Determinato un po' dalla batteria Determinato un po' dai sensori Che arriva a 204 grammi Non è eccezionale Ma si fa sentire Fidatemi Io ho questo qui E ho lui Certo lui pesa di più il 12 Pro Max Ma da questa parte Sendo il comunque C'è della sostanza Ma parlando di design in linea generale Perfetto Veramente cura dei dettagli Pazzesca Andando invece a parlare del display Abbiamo un 6,1 pollici Classico Un Super Retina XDR ProMotion Bellissimo Un OLED da 2532 pixel per 1170 Con 460 ppi E una luminosità massima Che arriva a 1000 nits Che detta Diciamo francamente Va ad implementare finalmente Parlando di tecnologia I 120 Hz Bellissimo Sì Assolutamente Ragazzi È un piacere Vedere Diciamo Tutte queste animazioni A 120 Hz Rende il tutto molto più morbido E piacevole Ma L'ho notato tutti? No L'ho fatto vedere questo smartphone A diverse persone E nessuno ha notato Effettivamente i 120 Hz Se lo sapete Percepite la differenza Nell'utilizzo quotidiano Io personalmente La sento Soprattutto quando ripasso Ad un iPhone 12 Pro Max Ma È una caratteristica Fondamentale Rivoluzione? No Ma Come vi dicevo in apertura È la ciliegina sulla torta Che ci sta È un qualcosa che vi coccola E mi ha fatto molto molto piacere Ed è per questo che vi dico Ok Approvo anche questa modifica Questa implementazione Parlando invece di un'altra cosa Che fa parlare Fa discutere abbastanza È il nuovo processore Abbiamo una 15 Bionic In questo caso Con una CPU a 6 core Di cui è 2 performance core E 4 efficiency core E una GPU a 5 core Con un Neural Engine Ma che sto a dire Mi sto proprio impappinando Neural Engine a 16 core Che è detto in poche parole Cambia Sì Migliore Ma Non è quello stravolgimento Cioè Non c'è la rivoluzione Migliora lato esportazione Riesce a darvi qualcosina in più Lato batteria E adesso ne parliamo Perché riesce a gestirla meglio Riesce a fare qualcosina in più Ma non stravolge Ma parlando appunto di ciliegine sulla torta Migliora Ma soprattutto migliora lato batteria Qui La batteria È veramente Eccezionale Non vi dico Che è la migliora in assoluto Non vi dico Che non mi fa Diciamo Rimpiangere un Pro Max Perché addirittura Quest'anno il Pro Max Sta dando veramente Diciamo Il massimo Ma questi Ve lo dico proprio nello specifico 3095 mAh Sono veramente Secondo me Ben gestiti Riescono a portarvi a sera Senza alcun problema Ed è un qualcosa Che mi piace E che mi dà Tante tante soddisfazioni Perché? Perché finalmente Posso tornare A dimensioni compatte Con una bella Bella batteria Perché in un video Vi ho detto Mi sono innamorato del Mini Ma poi non l'ho comprato Beh Non dico per la batteria Ma proprio perché Diciamo Proprio il concetto Che gira intorno a Mini Per quello che devo fare io Non va benissimo Perché ho bisogno del massimo Soprattutto qui dietro Lato fotocamera E Se mettete a confronto Magari un 12 Mini Con un 12 Pro Max La differenza si sente Ma se poi lo mettete a confronto Con questo qui È ancora Diciamo Maggiore Questa differenza E Parlando proprio di Fotocamere Foto Video E tutte queste cose qui Ragazzi Devo dire che Mi ha dato un sacco Di soddisfazioni Mi ci sto Divertendo Tantissimo Veramente Veramente Fantastiche Questi sensori qua dietro Tutti nuovi Tutti belli Funziona veramente Molto bene Ma secondo me La rivoluzione Non l'abbiamo Non l'abbiamo tanto Lato video Ma lato foto È un pensiero Abbastanza personale Voglio sapere la vostra Se avete un iPhone 13 Fatemelo sapere 13 Pro Fatemelo sapere Ma io noto queste differenze Principalmente Nella fotografia Adesso però vi spiego il tutto In maniera molto più Efficace Allora andiamo a vedere Prima di tutto i sensori Abbiamo tutti i sensori Nuovi da 12 megapixel Di cui Un teleobiettivo F2.8 Un grandangolo Quindi standard F1.5 E un ultra grandangolare F1.8 Quindi decisamente Pi' aperto A 120 gradi Per quanto riguarda L'angolo di campo Ok Che poi riesce Ad inglobare E in queste tecnologie O comunque Quello che poi è stato implementato Abbiamo Diciamo come novità Stili fotografici Quindi La possibilità di cambiare Proprio durante lo scatto Prima dello scatto Anzi scusatemi Diciamo la temperatura Del colore Magari spingere di più Sul contrasto Un po' in stile Samsung Un po' così Avere un colore Un attimo più caldo Più freddo Quindi vi permette Anche di regolare Lo skin tone E tutte queste cosucce qui Poi abbiamo L'Apple Pro Raw Come abbiamo anche Sui 12 Pro E poi abbiamo Lato invece video La Cinematic Mode Allora Io l'ho testata Questa funzione Non forse In maniera super approfondita Vero Ma l'ho testata E non posso Assolutamente dire Diciamo Che Va bene Cioè che vada bene Non mi so spiegare Ragazzi io non ho scritto nulla Non volevo un copione Volevo proprio parlarvi Delle mie sensazioni Di quello che effettivamente pensavo E Quindi Non ho proprio parole precise Perché è una funzione Che È interessante Ma che va Migliorata Va assolutamente migliorata E forse anche controllata Perché se voi registrate Con la Cinematic Mode E diciamo Andate proprio Base Lui vi Scontorna abbastanza bene Se avete i capelli abbastanza Sordinati E se non avete Gli occhiali Ma è un qualcosa di Un po' troppo forzato Un po' troppo finto Se invece regolate Poi in post Durante proprio Diciamo La visione Stesso dallo smartphone Come potete farlo Perché una volta registrato Voi tappate Andate in modifica E regolate l'apertura Per gestire un po' il bokeh Diventa molto più Interessante Molto più morbido Decisamente più naturale Diciamo più simile A quello di una fotocamera E quindi Questa è una cosa Che Tendo a Condividervi E proprio Nell'utilizzo quotidiano Anche nel riprendere Un qualcosa Ogni tanto Diciamocelo Tende un po' A fare Delle schifezzuole Cioè non è proprio Perfetto Anzi è un po' Imperfetto Sotto questo punto di vista Lato video Nulla da dire Apple Per me È tra i primi Sotto questo punto di vista Si comporta veramente Molto ma molto bene E i video sono sempre Eccezionali Anche qui Nulla da dire Migliora la tua definizione Devo dire Mi piace questa cosa E quindi Ok Ma lo salto Perché vi dipeto Secondo me Le novità sono anche E soprattutto Lato foto Perché Mi sono divertito Un sacco E la nuova feature Del macro Che è poi Diciamo Va poi inserita All'interno dell'ultra Grandangolare È veramente una cosa Fantastica Ragazzi Mi sta facendo Proprio impazzire Cioè provate a guardare Questa foto Si è editata Io vi metterò Quella modificata E quella no Ma guardate Uno il dettaglio Due i dettagli Che riuscite a tirare fuori E tre la qualità È un qualcosa Di eccezionale Poi è una cosa Che io ho fatto Così ragazzi Avevo lo smartphone Così In faccia Proprio piazzato Dall'Apple Watch Guardavo un po' L'inquadratura E scattavo Quindi tutto da solo È fatto con lo smartphone È un risultato Decisamente interessante E piacevole È proprio bello 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 Ma non sono questi Solo Diciamo gli utilizzi Ci vorrebbe proprio Un video Solo ed esclusivamente Dedicato alla fotografia Quindi vedremo E analizzeremo Ma intanto Prendetevi Diciamo questa cosa qui Che effettivamente La qualità c'è E si vede E questo c'è E si vede Si vede Non solo Nella macro Ma anche nell'ultracarnacolare Che migliora Mi piace veramente tanto Sia per aberrazioni cromatiche Migliora Come anche le distorsioni Mi piace Veramente tanto La lente standard Ma mi piace La Soprattutto La zoom C'è quella lì Il sensore appunto Zoom Mi stiamo proprio perdendo Che A parer mio Sul 12 Pro Max È un attimino sottotono Rispetto ad alcuni Che avevo già provato Come per esempio Poteva essere magari Samsung Xiaomi Eccetera eccetera Poco dettaglio Rispetto agli altri Quest'anno comunque Con lui Migliora anche Sotto questo punto di vista E Devo dire Diciamo Sono particolarmente soddisfatto E detto questo Detto che È appunto Una ciliegina sulla torta È un Completamento È un qualcosa Che va a completare Il discorso Portato avanti Da Apple E detto che effettivamente È uno smartphone Che mi dà Tante tante soddisfazioni Devo anche dirvi Che ho un po' Di problemi Allora Partiamo dal fatto Che ho dei problemi Con Whatsapp Quando scrivo E vado a scrivere In generale Non so Mi dà dei rimbalzi Magari All'applicazione Lo so Ma va bene Instagram Non sono l'unico Ci sono dei problemi Ancora con Instagram Devi aggiornarsi Instagram Ma vi dico tutti i problemi Che ho riscontrato Perché siamo Un esperienziale Io vi dico tutto E devo dirvi che effettivamente Ho avuto dei problemi con Instagram Non solo proprio nel Rispondere magari ad una storia Sapete il box delle storie Se ho ancora il video Dovrei Dovrei averlo Perché l'ho salvato Sì C'è proprio questo problema Di un rimando Una schermata nera Eccetera eccetera Quindi vedrete Dalle foto Ho dei problemi Nell'aprire la fotocamera A volte non si legge Ma questo è un problema Di Instagram Non lo so Fatemi sapere Se avete anche voi Questi problemi Ma devo comunque Segnarvi un pochettino Tutto quello che Ho potuto testare E provare Per il resto ragazzi È uno smartphone Fantastico Veramente Bello 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 E vi ripeto Per l'ultima volta È la ciliegina Sulla torta Bello 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 E questa orazione Bianca È troppo bella E vi ripeto C'è proprio l'equilibrio Quest'anno O comunque in generale Anche quest'anno Io vi consiglio Di acquistare il 13 Se volete effettuare Proprio l'acquisto Della vita La opportunità prezzo Ma quest'anno Il 13 Pro È l'equilibrio È lo smartphone Che consiglio Di più In assoluto Se volete Il massimo Ok Sì certo C'è il Pro Max Ma lì Andate solo Se volete Una batteria Pazzesca Perché Le dimensioni Generose Nell'utilizzo quotidiano Si fanno sentire Dopo un po' Mentre queste qui Sono veramente Perfette Quindi Detto che è uno smartphone Che vi consiglio Detto che mi è piaciuto Detto qualche piccolo problemino Ma veramente leggero Comunque che va Comunque sottolineato Vi dico che se avete Un 12 Pro Non ha senso passare Ad un 13 Pro A patto Di una ricerca Lato fotografico E video O comunque A patto Di un utilizzo Professionale Lato foto e video Ecco se voi Volete lavorare O comunque Lavorate Con uno smartphone E volete il massimo Lato foto e video E avete bisogno Del massimo Lato prestazioni Volete proprio Il top del top Allora ok Effettuate il cambio Ma Se avete Un 12 Pro 12 Pro Max 12 Tutto quello che volete Il passaggio Ma come sempre Di anno in anno Ha poco senso Se avete un XS Sì Ha assolutamente senso Se avete un X Ancora di più Se avete un 11 Pro Non lo so Ma anche lì Vi direi Di sì Potrebbe andare Assolutamente bene Anche perché qui Rispetto ad un 11 Quello che sento Particolarmente È la batteria Qui viene gestita Veramente molto molto bene Mi ha dato un sacco Di soddisfazioni Detto questo Vi ringrazio come sempre Sono stato bello diretto Naturale Spero che questo video Sia stato di vostro Vedimento Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Cosa avete pensato Ho dato una botta Col dito sulla scrivania Ma vabbè Un bacio e un abbraccio Da Gio è tutto Fatemi sapere tutto Qui sotto nei commenti È importante Voglio proprio Vostri feedback Like, iscrizione Campanella Siamo arrivati a un sacco di contenuti Un bacio e un abbraccio Da Gio è tutto Ciao a tutti